Sara Ferri, la più giovane tra i candidati sindaci di Sernia, ha presentato la sua squadra in lizza con Sinistra Perisernia. Molto entusiasmo tra i candidati e i simpatizzanti, c'è fiducia ed ottimismo per un buon risultato. Ospiti d'onore, Mimmo Pellegrino, personaggio storico della Sinistra Morisana e l'onorevole Nicola Fratoianni. Sì, Sara Perisernia è un progetto innovativo e creativo, un progetto che guardi al futuro e renda la città fruibile prima di tutto per la persona, sia essa un uomo, una donna, un bambino, un anziano, che guardi all'ambiente e al nostro territorio come una risorsa, non come un modo per speculare da parte di pochi, ma per un progetto organico e mirato per i cittadini e le cittadine e per far sì che i giovani rimangano, vogliano restare volentieri in questa terra, perché qui c'è un futuro per loro, per le loro famiglie. Una lista di giovani. È una lista che mi dà un entusiasmo, una forza importante, perché è una lista di giovani, seppure già impegnati, commercianti, piccoli imprenditori, ragazzi e ragazze, donne e uomini, di varietà attivi in questa comunità, dal punto di vista sociale, professionale, culturale. Oltre alla lista abbiamo a fianco a noi la sinistra storica della città, quelli che hanno fatto il meglio per rendere questa città un buon luogo in cui vivere e rimanere.